Noi non diremo mai una parola contro nessuno, io non dirò mai una parola contro Giuliano Pisapia, per me conta il progetto. Il nostro è un progetto di cambiamento per costruire una forza progressista alternativa alle politiche sbagliate di Renzi. Se si discute di sanità pubblica, di scuola pubblica, se si discute di ecologia, di progressività fiscale, noi ci siamo. Quello è il nostro orizzonte. Ora basta parlare di nomi, vogliamo ricostruire un processo nell'interesse di questo Paese. Lanciamo un grande appuntamento democratico aperto per risvegliare tante energie diffuse nel Paese. Queste cose le abbiamo detto il primo luglio con Pisapia, le ridiciamo oggi. Se poi Pisapia ha cambiato idea e decide dopo il Rosatellum di fare un'alleanza con Renzi, mi dispiace. Io continuo a credere e a sperare che non voglia fare questo, anche perché quello sì sarebbe un partitino irrilevante e subalterno. C'è una piccola lista che dia una copertura, una finta copertura a sinistra a una rinnovata alleanza Renzi-Alfano. Io continuo a pensare che Pisapia non voglia e non possa fare questo.